Importanti progettualità stanno per attuarsi recentemente per un palazzo che è nel cuore di tutti i fanesi? Ancora una volta mi viene da dire che fanno c'è e ottene risultati. C'era un obiettivo che da tanti anni si vuole perseguire, quello di trasferire l'archivio di Stato a Palazzo Nolfi. Noi avevamo ultimato i lavori nella parte superiore dove andranno trasferiti una serie di uffici, ma la parte destinata all'archivio di Stato, che è un patrimonio straordinario e importante per la città di Fanno, rischiamo di non essere ultimati. Siamo riusciti ad avere, grazie alla soprintendenza, e qui devo ringraziare anche l'architetto Guida che ci è stato a fianco e ha creduto in questo obiettivo, siamo riusciti ad avere finalmente un riconoscimento al Ministero dei Beni Culturali che ha messo a disposizione delle risorse importanti per il Palazzo Nolfi, a cui si aggiungono delle risorse degli archivi di Stato e delle risorse che metterà il Comune di Fanno. Con queste risorse ultimeremo i lavori, dopodiché si potrà trasferire l'archivio di Stato liberando la parte della biblioteca fidericiana per altri utilizzi. Quindi ancora una volta abbiamo dimostrato che quando vogliamo raggiungere gli obiettivi ne siamo capaci. Quindi soddisfazione e un grazie a tutti coloro che insieme a noi hanno perseguito questo risultato. Ci siamo visti ieri, adesso faremo un protocollo per i lavori e l'obiettivo è arrivare per il 2018 con i lavori realizzati.